Io sono rumori vecchi emergono da profondo, tutto si allontana, tutto si calma, io sono sordo. L'apocalisse è iniziata qualche minuto prima delle nove del mattino americane, da noi erano quasi le tre di oggi pomeriggio. E quando l'annello aprì il settimo sigillo si fece nel cielo un silenzio di circa mezz'ora e vedi sette angeli che stavano dinanzi a Dio e furono loro date sette trombe. E il primo angelo ti ha defiato alla tromba e ne viene grande il fuoco misto a sale e furono citati sopra la terra. E la terza parte della terra fu arsa e la terza parte degli alberi fu arsa e fu arsa tutta l'erba verniciante. E il secondo angelo ti ha defiato alla tromba e una specie di grande montagna di fuoco ardente fucitata dal mare. Quest'ultimo crollo ricordiamo anche che la zona ormai piena soltanto di rottami che nascondono i corpi privi di vita di miliardi di persone. E il terzo angelo si ha defiato alla sua tromba e dal cielo cade una stella grande ardente come la fiacola. La stella si chiamava Asensio. In un tempo senza spazio, in un luogo senza il ritmo delle stagioni. Dove la notte è veramente buia e fatta alta paura e non lascia via di scappo. Dove il giorno è resurrezione dalle ombre dei mostri dei nostri incubi. Puty, 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 puty. Oh, no, 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 no. No, 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 no